Trovare i bagnini per la prossima stagione estiva diventa quest'anno un'impresa ancora più difficile delle estati scorse. Mancano infatti oltre 200 assistenti bagnanti nelle spiagge venete, di cui 50 solo a Jesolo. Anche gli incontri tra aziende e candidati organizzati da Veneto Lavoro e dalla Regione la scorsa settimana per oltre 60 aziende nel settore del turismo non sono riusciti a soddisfare tutte le richieste. Tra le figure ricercate ci sono infatti anche 15 bagnini, specialmente nel veneziano, ma ne sono stati trovati poco più della metà. I problemi sono molteplici. Innanzitutto in molti casi non viene più dato l'alloggio a chi viene da fuori e i prezzi degli appartamenti sono sempre più cari. C'è poi la questione della disoccupazione. Una volta, con sei mesi di lavoro stagionale, si era coperti per altri sei mesi. Oggi invece si ricevono solo tre mesi di inaspi e trovare un'occupazione per altri 90 giorni non è sempre facile. E così molti bagnini, soprattutto dopo i 25 anni, cercano un lavoro più stabile. Infine oggi si ricevono molte denunce se non si soccorre una persona in maniera adeguata. Troppe responsabilità a fronte di uno stipendio basso e un rischio molto alto.